Siamo a Pasadena, vicino a Los Angeles, in California, e oggi è iniziata ufficialmente la 240esima edizione della conferenza dell'American Astronomical Society. I numeri sono davvero impressionanti. A partecipare sono infatti oltre 2300 astronomi e astronome provenienti da 32 paesi di tutto il mondo. E nel corso di questi quattro giorni verranno presentati oltre 1100 contributi tra sessioni plenarie, meeting, sessioni parallele di vario tipo e poster. Ad aprire oggi la conferenza è stata proprio la presidente dell'American Astronomical Society, Paula Schkody. Agencies, NASA e NSF, sono rappresentanti e hanno tante persone, e tutte le spazio di spazio, come JWST e ISPE, sono presenti i primi risultati, e il JWST è quello che è planato. Quindi è un momento per non solo per le tante persone, ma per le persone che interagano con l'unica, in tutte le sessioni, abbiamo 11 paralleli sessioni allo stesso tempo, e in queste sessioni, all'inizio del risultato è presente. It takes giorni a while, I mean, people have to write up the results, and it might be six months to a year before an event comes out in a journal. But here at the meeting, we're just seeing, you know, what's actually going on in a much faster timescale, and it's just a way to keep up and keep in touch with your colleagues. It's a social thing, so a lot of collaborations happen here, and young people get to meet the older people in the field and get involved in some things that they normally would not have. So it's just an opportunity for all the U.S., and people outside the U.S., as well, that are able to come, can interact with each other. And the U.S. Promise? BioCircom飛اح